Le mie avventure inizia qua Allora Io in missione per Tunisia Unita Grande nazione Tunisia Unita Io legione esplorativa Quindi Andiamo avanti a fare Io so già come funziona qui morte e tutto quanto Io ero di legione sacra ma loro ho bannato me perché dicono incompetente io Vigliacchi Ok Io qui so già dove andare più o meno Tu non minaccia me con ballestra Di là essere solo roba inutile morte Di qua esserci roba importanti ma Andiamo Qui ora esserci il mostro grosso Ma io potrei evitare grazie a mie schivate arabe Queste cose qui mi hanno salvato Azama Guardate Non sopravvissuto così io Azama Via 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 corri corri Ok Superato primo mostro Aspetta mi metto bene baffi Miei baffi fieri andiamo Io avevo evito solo poco più avanti Io ho arrivato dove muro di nebbia blocca strada Resto ho visto tutto Andi Ah mi manca il caldo di mia patria Tunisia unita Il mio scudo in legno è bello ma fa schifo dovrò cambiarlo quando posso Ah Tunisia unita Tanto caldo che muori di sete Mi manca Vai Colpisci Ah L'ha fatto sul serio Perché qui morti Perché madre o me dove c'è maledizione Ah 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 No io ho sbagliato Tutto quanto Io ho dovere riposare di nuovo Falloppers Perché non so quanto manca per il prossimo Prendo scudo e vado avanti Muori te No 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 oh Porca vacca Mio dara ha in legno a fare schifo Io ho costretto a schifare Benissimo Qui ora balestriere cattivo Muori Oh mi prende alle spalle Come noi a canne Infatti quando Noi rompere culo di imperia Io esso in allenamento Quando imperia rompere culo noi Io in prima fila E' così che funziona Bene Io essere arrivato qui Rimuovi spalle Cos'è? Statua orribile fatta male Penso serva per farlo Ho sentito dai Si muove Muori Questa roba è pericoloso Gandir il giudice Darà di merda Tattica Tattica di Rashid Schiva come il coniglio Uh doppia mano No sbagliato Tutto sbagliato Colpisci bigliacco Ah Mio culo Tunisino Non si arrende così No diventa mostro Ora pericolo Pericolo per Rashid Nooo 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 Io poteré ancora combat Aiaiaiaia Nació di animato Aiaiaia Non so bloccato Ok Otre estus ancora Via Via Via, muori, no, ha fatto combo da 4, via, muori, eh, volerete mio culo, no, vai, Rashid vince questa volta. Staga, come stare sotto deserto a mezzogiorno, vai, no, ai ai ai, Rashid muore, Rashid in pericolo, ai 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 ai. No, 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 no da legione sacra io troppo incompetente ok con doppia scimitarra poter battere anche questo perchè non possiamo essere amici il mio darahar legno fa schifo scudo scudo ancora l'arabo in testa il mio scudo e legno fa schifo ahhh combatti da uomo o da statua o da qualsiasi cosa tu sia muori io non ho pietà aiaiaiaiaia io dovrei stare sotto al suo culo questa è tattica migliore ahhh eeeh nooo allah proteggimi allah salva tuo fedele allah 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 grazie allah per turquia unita no per tunisia unita tunisia unita forever tunisia unita per sempre vai ho vinto e vada fuoco dettaglio io non ho ancora capito un cazzo di questa terra maledetta ma se io torno ma se io torno con successo in tunisia unita con ciò che sto cercando io ritornare a casa ricco ricco come pescià grazie a tutti